Sono qui a parlare nello stand vegan ok di bambini e sensibilizzazione sugli animali, infatti ho portato due video molto carini che sicuramente fanno capire quanto i bambini siano portatori sani di coerenza e che permette di capire come noi dovremmo comportarci come loro di fronte a certe situazioni ingestibili, come ad esempio l'abbandono degli animali e ad esempio anche il fatto di mangiare una creatura vivente. Sono molto divertenti perché ovviamente quando si tratta di bambini c'è sempre un sorriso, però sono anche argomento di riflessione per noi adulti.